Da tempo il commercio manifesta severi sintomi di sofferenza con effetti deleteri anche da un punto di vista sociale ed urbanistico. Dal fenomeno di dimensioni nazionali non è esente il nostro territorio, dove le saracinesche abbassate, proprio in pieno centro, mortificano gli slanci in senso turistico della città e della provincia. Il disagio è palpabile, per lavorare al rilancio del comparto non si può prescindere dall'analisi delle cause del malessere. In quest'ottica rientra il focus promosso da Confcommercio Taranto dal titolo Piano Strategico del Commercio Work in Progress. Abbiamo già idea di come contrastare il problema, però bisogna che in campo si mettano tutte le azioni e soprattutto si crei un percorso comune. Tra i relatori Federico Pastore e Giuseppe Chiarelli, rispettivamente direttore di Confcommercio Lecce e direttore di Confcommercio Puglia. Bisogna investire sulle buone pratiche per uscire da queste impasse. Il commercio, soprattutto il piccolo commercio, le micro e piccole attività commerciali, da tempo stanno subendo l'attacco soprattutto del commercio elettronico che le sta insidiando e sta procurando come primo effetto la desertificazione commerciale nei centri urbani, nei centri storici. Ed è impari come concorrenza. È una battaglia impari, una concorrenza impari, per cui non bisogna pensare di poterli affrontare direttamente con una battaglia, ma bisogna porre in essere delle buone pratiche commerciali e delle politiche pubbliche di sostegno al piccolo commercio. Da dove partire? Partire dal pensare al territorio non più come un mercato, ma come un territorio da attrezzare di servizi per i cittadini. A coordinare i lavori a cui hanno preso parte diversi amministratori pubblici, Tullio Mancino, direttore di Confcommercio Taranto. Oggi incontriamo i comuni, incontriamo i sindaci, gli assessori al ramo, ma anche i responsabili degli uffici. E lo facciamo insieme ai nostri delegati sul territorio, ossia coloro che guidano le delegazioni di operatori che su tutti i comuni della provincia di Taranto sono presenti.